ariete oggi ricercate stimoli potenti emozioni passionali avete voglia di uscire dalla routine e vivere i sentimenti con un pizzico di follia favoriti da angolazioni astrali potenti avete molte opportunità di fronte anche in ambito lavorativo personale occorre saper scegliere toro l'approfondimento di alcuni rapporti interpersonali può portare benefici ci sono trattative da valutare che potrebbero cambiare il vostro modo di pensare un po in difficoltà il settore amoroso che risulta poco sintonizzato sulla vostra lunghezza d'onda gemelli giornata dalle emozioni spente a tratti nervose che suscitano orientamenti poco positivi basati su impressioni che farete bene ad allontanare date spazio all'amore e a ricercare qualche piacere personale che allieti questo momento di incertezza cancro il periodo non trova soluzioni ai vostri problemi ma cercate di arginare l'atteggiamento indispettito e capriccioso che vi pone in una luce poco accattivante e rischia di far naufragare anche i migliori propositi di chi vi circonda siate più pratici leone gli aspetti di opposizione di venere e marte turbano un cielo astrale altrimenti ricco e positivo che elargisce una buona consapevolezza e determinazione vantaggi nel settore lavorativo l'amore invece segna qualche dissapore unita ad una irritabilità che lo inasprisce vergine periodo sottotono che abbassa un po il tono vitale e spegne qualche entusiasmo ma regala la positività nelle vostre frequentazioni sociali nelle trattative di lavoro nella vostra curiosità mentale che vi apre a nuovi programmi fatene buon uso bilancia si allarga l'effetto sentimentale della vostra giornata incastonata in un periodo ricco di sintonia con chiamate di incontri anche a sfondo passionale nonostante permangano alcune incertezze e mutamenti in corso siete tutto sommato appagati scorpione non fate dei vostri obiettivi una ossessione che insiste prepotente nei vostri pensieri miscelate bene razionalità e istinto e siate tenaci moderate la vostra aggressività marte dissonante potrebbe invitarvi a posizioni dure coinvolgendo anche il lato sentimentale sagittario giornata dai toni nervosi le sensazioni sono un po aride e vi allontanano dai piaceri e dal sentimentalismo ma è solo un breve passaggio in realtà siete al centro di favori astrali di grande rilievo che non possono che farvi realizzare progetti e sogni capricorno periodo di attività mentale molto intensa siete lontani dalle cose superficiali e avete bisogno di andare a fondo delle questioni momento ottimo per i contatti e le trattative la vostra capacità di persuasione è alta e potete ricavarne grandi vantaggi acquario vi accompagna a una bella energia fisica che vi vuole attivi in movimento e alla ricerca di soddisfazioni sentimentali spinti da una rinnovata voglia di amore e sentimento avete molte carte da giocare siete determinati e pronti a realizzare i vostri progetti pesci poco brillanti fisicamente ed emotivamente oggi meglio dedicarsi alla pianificazione dei prossimi programmi ad arricchire il vostro sapere con qualche lettura o approfondimento affinate le vostre capacità di relazionarvi con gli altri sarete ascoltati buone stelle